Non esistono bambini di serie A e bambini di serie B, non esistono province di serie A e province di serie B. Anche in questo momento, dopo quella nota della direzione generale, ci sono ASL che applicano la delibera 131 e ASL che non la applicano. E allora il contenuto della nostra mozione è volto a richiedere intanto la modifica della delibera 131 e noi ci dobbiamo esprimere oggi su questo, che ognuno si assuma la responsabilità di una posizione politica su un tema così importante e che questa modifica, dal nostro punto di vista, tenga conto della partecipazione, del contributo delle famiglie e dei genitori che per farsi ascoltare non abbiano bisogno di dover venire sotto al Consiglio regionale a mettere in piedi una protesta quanto legittima ma soprattutto giusta. Il tema della centralità della terapia ABBA è un tema da cui non si può prescindere, il tema del numero di ore è un tema da cui non si può prescindere, il tema della previsione di un intervento di un'equipe multidisciplinare è un tema da cui non si può prescindere, ma se fossero stati coinvolti i genitori e gli attori principali, noi oggi probabilmente saremo qui a discutere di altro.